... Questa sì che è un'apparizione, ha queste apparizioni, vi giuro che ci credo anch'io. Raffaello, state seduto, fammi il piacere. Ne vorrei avere di giorno e di notte. È una nostra vicina di casa, ma noi veramente non la frequentiamo. Ilvecarta! Ilvecarta! La signora Giulietta non la frequenta, io la frequenterei volentieri. Mademoiselle, vada riprendere le bambine, per favore. Rossella, Sabrina, qu'est-ce che vous faites là? Ne derangez pas, la dame, voyons. Rossella, madame Giulietta va se fâcher. Vi a bien, merci la dame. Merci, madame. Merci beaucoup. Allez, venez, mes petites. Ciao! Ciao! Vado a fare i bagno, signora. E la nostra simpatica donna Giulietta che vede sempre arcani dappertutto. Ha! Ha! Le bien-être regnait dans la maison de Catherine. Son mari l'a porté au nu. Et ses enfants grandissaient robustes et laborieux. Naturellement, tous les hommes du voisinage la prenaient en exemple devant leur épouse. e le femme l'ave prisa en horreur come la fumée pour les yeux Giulietta mi aiuti per favore sono vecchio del resto riguarda proprio lei il resto riguarda proprio lei dottore dottore aiuto dottore aiuto Giulietta la signora laggiù ci ha mandato questo bel cesto di frutta per regalo gentile no?